salve buonasera a tutti gli listini europei chiudono in ordine sparso con piazza affari la peggiore della seduta appesantita dalle tensioni europee dalle tensioni politiche infatti cedendo il 2,32 per cento a deprimere l'azionario italiano sono gli ultimi sviluppi politici se da un lato il leader della lega Matteo Salvini ha definito ormai prossimo all'accordo di governo con il Movimento 5 Stelle dall'altro lato sono le evitate le preoccupazioni tra gli investitori circa l'atteggiamento verso l'Europa che terrebbe il nuovo governo una prima bozza di contratto di governo tra la lega e Movimento 5 Stelle citata dal Luffington Post prevedeva anche norme anti euro e la richiesta della cancellazione di circa 250 miliardi di euro di BTP acquistati dalla banca centrale europea nell'ambito del quantità di vising ma vediamo bene con attenzione quello che cosa ci hanno come hanno chiuso i DAX chiude a più 0,18 per cento l'Ibex a meno 0,95 per cento CAC di Parigi che chiude a più 0,26 per cento FUTS di Londra più 0,14 per cento e FUTS MIM che chiude a meno 2,31 per cento bene mentre invece per quanto riguarda gli uso macroeconomico che sono state rilasciate oggi si parte dal tasso di inflazione della Germania di che si è attestata ad aprire all'1,6 per cento rimanendo stabile poi dalla zona euro abbiamo è stato elaborato l'inflazione che è risultata all'1,2 nel mese di aprile e poi direttamente dagli Stati Uniti c'è stato il scorte di petrolio le scorte di petrolio che nella settimana dell'11 maggio sono hanno segnato un calo di 1,4 milioni di parili mentre invece sempre dagli Stati Uniti nel mese di aprile la produzione industriale americana ha registrato una crescita mensile dello 0,7 per cento bene invece domani martedì giovedì 17 maggio abbiamo alle 3,30 la variazione del livello di occupazione e tasso di disoccupazione di aprile alle ore 11 la bilancia commerciale di marzo alle 14,30 le richieste iniziali dei sussidi alla disoccupazione e poi sempre allo stesso orario l'indice di fiducia della fed di filadelfia di maggio bene adesso andiamo a vedere che cosa è successo per quanto riguarda il future del dollar index che in questo momento si mantiene sui massimi ed molto probabilmente se continua così questa movimentazione rialzista nella giornata di domani potremmo assistere ad altri affondi rialzisti quindi possiamo dare per certo la cancellazione di questo fase di correzione che praticamente è durata circa due giorni e mezzo per quanto riguarda invece l'euro dollaro siamo sempre in un ambiente rialzista in questo momento il prezzo si mantiene sotto uno 18 376 quindi se questo è settimanale dove appunto abbiamo anche una praticamente una bearish black swan ribassista vedete quindi sul giornaliero abbiamo anche se adesso c'è una leggera correzione però il prezzo si mantiene sotto uno 18 376 in questo caso se si mantiene così possiamo assistere ad altre indicazioni di tipo ribassista nella giornata di domani la stessa situazione invece per quanto riguarda andiamo a vedere il dollaro yen invece abbiamo una situazione dove al momento sto aspettando vedete stiamo in una situazione molto interessante tra i 50 e i 61 e 8 questa è un'area che è calcolata da fibonacci dovuto appunto all'ultimo fase ribassista quindi tracciato fibonacci all'ultima fase ribassista e mi sono andato appunto a identificare la possibile fase di fine correzione questa correzione rialzista vedete a maggior ragione poi in ottica giornaliera abbiamo anche questa bearish white swan proprio nello stesso area 50 68 che evidenzia appunto ci dà una manforte appunto a questo possibile movimento sell anche se vedete in questo momento io sto aspettando un close sotto il supporto 110 precisamente 109 977 per quanto riguarda invece stellina dollaro in questo momento c'è stato un ulteriore rimbalzo per l'ennesimo rimbalzo fino a quando abbiamo testato siamo siamo arrivati molto vicini per l'ennesima volta al target in questo momento ci troviamo a 302 punti di profitto vediamo un attimo se domani riusciamo appunto a raggiungere il target mentre invece per quanto riguarda la sessione odierna per quando riguarda le operazioni chiuse abbiamo avuto una serie 3 target allora si è partito da eurocad i primi 90 punti su eurocad eccolo qua classico black breakout movimento quindi 90 punti poi eurofranco 130 120 punti su eurofranco un altro breakout e qui quindi tutti i 120 punti con un supporto vedete c'è un target che ho fissato pochi punti sopra 117 758 quindi e poi il prezzo è imbalzato su e poi ultimo target proprio sul finale è stellina dollaro canadese stellina gbb stellina dollaro canadese scusatemi che praticamente eccolo qua altri 130 punti e poi c'è stato questo rimbalzo benissimo per stasera è tutto anzi un'altra situazione sto aspettando un altro scenario interessante che sto seguendo per un possibile trade è praticamente estelina yen dopo questa correzione però sto aspettando un close sotto 148 178 per entrare sella bene per stasera è tutto grazie mille e ci aggiorniamo quindi domani mattina al primo appuntamento alle ore 8 e 30 con la diretta live buonasera da tutti